Ciao e grazie per aver aperto questo video. Cosa state per vedere? Da oltre 20 anni sono un grande appassionato di MotoGP, sono andato a vedere un sacco di gran premi e in tv credo di non essermene perso neanche uno negli ultimi 20 anni. Come chi mi segue già lo sa, ogni mese scrivo un brano per un gruppo di miei studenti privati. Si basa ovviamente su un aspetto tecnico specifico della chitarra, ma in realtà cerco di creare questi brani cercando con tutta la passione di trasmettere e trasferire delle emozioni in chi ascolta e spesso ovviamente mi faccio ispirare da cose che mi succedono nella vita. Ovviamente in questo caso negli ultimi mesi la cosa che mi ha preso più di tutti è stata la grande storia della grande rimonta di Francesco Pecco Bagnaia nel campionato mondiale della MotoGP. Finché scrivevo il brano quello che avevo in testa era solo una cosa, gli occhi della determinazione di un pilota che vince, di un pilota campione. Inizialmente infatti il titolo di questo brano era Eyes of a Winner che ovviamente adesso ho cambiato in Eyes of a Champion. Bene, spero che queste mie emozioni traspaiano e fatemi sapere cosa ne pensate del brano. Spero che vi piazza. Buon ascolto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.